Sì, grazie Presidente. Diciamo che con questa interrogazione non vogliamo toccare solo il discorso della piastra ambulatoriale di Santa Margherita Ligure, ma anche gli ambulatori di Santa Margherita Ligure. Perché per quanto concerne la piastra ambulatoriale c'era già stato risposto dall'assessore Viale che non rientrava nelle volontà dell'assessorato e della giunta di istituire una piastra ambulatoriale a Santa Margherita Ligure, cosa che veniva continuamente promessa dal 2011 nella passata legislatura sotto un altro assessore alla Sanità Ligure. Bisogna sempre però tener conto che ci sono più di 2.200 persone che a Santa Margherita hanno firmato per attivare la piastra ambulatoriale e che oggi non hanno avuto nessuna risposta sia dall'assessore regionale che da altre persone istituzionali. e quindi questi cittadini si chiedono se sia nella volontà dell'ASL 4 e nell'assessorato della sanità dare una sistemazione migliore agli attuali ambulatori che passatemi il termine dire che sono del terzo mondo facciamo anche un complimento. e poi se venga confermata la definitiva volontà di non creare la piastra ambulatoriale che tanto veniva promessa ai cittadini di Santa Margherita nel vecchio ospedale. Faccio presente che anche per l'ASL mantenere l'ambulatorio nei locali di via Roma è una spesa in più perché non sono locali di proprietà dell'ASL perché si pagano affitto. Quindi se vogliamo andare ad ottimizzare quelli che sono i costi della sanità secondo me è da tener conto anche di questo aspetto. e mi spiace però pensare che ci siano dei servizi pubblici migliori per quanto riguarda il trasporto delle persone tra Santa Margherita e Rapallo la ritengo una frase di fantascienza visti quelli che saranno poi gli scenari prossimi del trasporto pubblico locale. Quindi mi sento in dovere visto che i cittadini di Santa Margherita mi hanno interpellato di marcarla a Duomo su questa pratica e confrontarmi anche con il dirigente dell'ASL 4 Rebagliati. Grazie. 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 Grazie.